Il contrasto non è una cosa negativa, è una cosa assolutamente positiva. Viene vista in maniera negativa da chi, come dicevo prima, non ha l'abitudine ad ascoltare, a capire quali sono le cose che porta avanti l'amico, il collega, quello che può essere un problema. Se invece si impara a lavorare insieme, si impara anche a capire perché l'altra persona porta un'idea diversa, ti porta a qualcosa che non è d'accordo con il tuo modo di pensare. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Generazione Z. Io sono Manuel Garau e come sempre, prima di passare alla nostra intervista, ci tengo a ringraziare la Mab&Co e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, che ci aiutano a creare questo ponte di connessione tra le aziende e le scuole. L'ultima volta ci siamo lasciati con Massimo Melis, amministratore di una giovane azienda, la Medicare Solution SRL e se non l'avete ancora vista ragazzi vi invito ad andare a guardarla. Perché oggi qui con noi abbiamo due imprenditori, anche loro amministratori di una giovane azienda, ma non spoilero nulla, saranno loro a raccontarci e a condividerci questo grande progetto. A me ha subito colpito, diciamo, l'innovazione che c'è dietro questa azienda. Quindi ci tengo a presentare Bruno e Fabrizio. Buongiorno e benvenuti in Generazione Z. Buongiorno. Come state innanzitutto? Tutto bene. Tutto bene. Tu Fabrizio? Bene, grazie, tutto a posto. Allora, come sempre vi chiedo, anzi oggi sono molto contento perché è la prima volta, la prima intervista in cui intervistiamo due persone contemporaneamente, due soci. Quindi, Bruno, chiedo prima a te di presentarti e poi a te Fabrizio. Io sono Bruno De Muru, sono ingegnere chimico. Sono laureato nel 1981, quindi non sono più un ragazzino. Sei Generazione Z. Ho lavorato per 40 anni in una grande azienda nella Sardegna. uscito da questa azienda per questioni d'età, ho incontrato Fabrizio, poi lui si racconterà la sua esperienza e insieme abbiamo deciso di aprire questa azienda. Noi siamo gli amministratori di questa azienda e facciamo le cose di cui parleremo. Va benissimo. Io sono Fabrizio Serrenti, ho una formazione universitaria, ingegneria civile e indirizzo strutture. Sono titolare di uno studio di ingegneria, oltre che ovviamente socio della Deal Change, società messa su con Bruno per mandare avanti questo discorso di cui ovviamente poi approfondiremo gli aspetti. Assolutamente. Voi vi conoscete, hai detto, da due anni. Sì. Ok. Cioè, come vi siete conosciuti per poi arrivare a fare una società insieme? Ci siamo conosciuti casualmente e questo fa anche riflettere tramite amici comuni. Noi non ci conoscevamo personalmente, ma tramite questi amici ci siamo conosciuti e parlando fra di noi abbiamo deciso di mettere insieme questa attività. Per fare che cosa? Quello che volevamo fare era parlare di innovazione. Allora, la società, la prima cosa che abbiamo scelto è il nome della società, la società si chiama Deal Change. Allora uno, la prima cosa che sente, io personalmente odio parlare in inglese in generale, cioè parlo in inglese per lavoro, però odio usare termini anglofoni quando si parla normalmente in italiano. Però abbiamo deciso, anche per portare avanti la curiosità degli interlocutori, di chiamare con questo termine inglese. E cosa sta a significare il termine? Allora, sta a significare che Deal Change è un nome dove Deal sta per colore verde-azzurro. In particolare può essere verde-azzurro, verde-acqua di mare o meglio verde come la pianta del tè, per questo Deal. E Change è perché noi, quando parliamo di innovazione, vogliamo portare avanti il discorso del cambiamento. Quindi cambiamento verso il verde. Perché? Perché per noi innovazione, in primis, è quella di svilupparla all'interno della propria società, nel nostro caso utilizzando una struttura organizzativa che un grande studioso francese che si chiama Lalou ha chiamato organizzazione TIL. Le organizzazioni evolvono nel tempo, nascono con le vecchie organizzazioni rosse, blu, verdi, che è l'ultima tipologia che è stata sviluppata. Le organizzazioni TIL sono quelle che stanno nascendo in questi ultimi anni. Quindi tipo le start-up degli ultimi anni. Tipo le start-up degli ultimi anni, ma perché sono basate su un'organizzazione che non è più gerarchica, ma è orizzontale. Per cui tutti, con un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione, lavorano allo stesso livello di gerarchia. L'eliminazione della gerarchia è un modo organizzativo importante per portare avanti l'innovazione. Le start-up devono lavorare così, tutti devono avere lo stesso livello di attività, di responsabilità. E noi abbiamo deciso di proseguire per questa strada. Mi viene da chiedervi una cosa, ma se è un'organizzazione orizzontale e poi alla fine quando ci sono da prendere delle decisioni importanti, chi le prende? Le prendiamo tutte assieme. Ci si siede attorno a un tavolo, si discute e fondamentalmente si mandano avanti le idee del momento, quelle che sono relative ovviamente all'oggetto della discussione temporanea. È chiaro che poi c'è necessità ovviamente di mettere tutto quanto per iscritto in modo tale che ognuno sappia qual è l'aspetto dell'attività che deve mandare avanti in modo tale da poter conseguire l'obiettivo comune senza nessun tipo di intralcio o di ostacolo. Ognuno prende una fetta dell'attività da mandare avanti e la porta a termine in parallelo agli altri con un continuo confronto, uno scambio di idee, di opinioni in modo tale da poter conseguire l'obiettivo comune senza disperdere risorse. Quindi tante riunioni immagino. Tanti incontri, tanti scambi di opinioni, tante proposte da mettere sul tavolo in modo tale da conseguire l'obiettivo comune. Ecco e qui abbiamo toccato un tasto culturale estremamente importante quando si parla di innovazione. Quando si parla di innovazione si inventa qualcosa di nuovo, si fa qualcosa di nuovo. Allora le decisioni nelle aziende, nelle organizzazioni tradizionali vengono prese dall'apice della piramide, dal capo, dall'amministratore, dall'amministratore, eccetera eccetera. Nelle organizzazioni TIL e nelle organizzazioni innovative le decisioni devono essere prese dal gruppo che prende la decisione. E questo è una trasformazione culturale importante perché prendere la decisione in gruppo vuol dire lavorare in gruppo, veramente. Voi sapete che le organizzazioni tradizionali parlano sempre di lavoro di gruppo, ma poi alla fine la decisione viene presa dall'amministratore, dal direttore, eccetera eccetera. Noi invece vogliamo far capire che la decisione è presa insieme quando si prende, si scelgono dei compromessi, a seconda dei caratteri, delle cose, ma l'importante è prenderla in gruppo e, un concetto importante, dire le proprie ragioni e sapere ascoltare le ragioni dell'altro. Perché solo dicendo in maniera trasparente le proprie ragioni e ascoltando le ragioni dell'altro si riesce a prendere la decisione più giusta. Attenzione, la capacità di ascolto tradizionalmente è sempre meno conosciuta e utilizzata rispetto alla capacità di parlare. Questo è uno dei problemi tradizionali delle organizzazioni che noi cerchiamo di affrontare. Noi siamo in due, quindi forse è ancora semplice, un pochettino più complicato quando ci sono dieci o venti persone. Però anche per due persone può essere complicato se non si segue questa strada di lavoro di gruppo e di amicizia che sta dietro. Beh, anche perché in aziende con questa struttura io immagino che sia ancora più importante e fondamentale, oltre a un rapporto lavorativo, ma proprio anche ci deve essere un rapporto di amicizia, un rapporto di… sì, ci deve essere una fiducia reciproca tra i vari, anche quando si sarà per esempio in venti, trenta, cinquanta, se appunto poi le decisioni si prendono tutte insieme, riunioni, discussioni e molto spesso magari trovare un punto di incontro non è sempre… Sì, non è sempre immediato, però la condivisione comunque è una cosa che porta a raggiungere l'obiettivo. Bruno diceva siamo in due, siamo in due in realtà soci della società, però la tipologia di attività che noi mandiamo avanti impone ovviamente una serie di specializzazioni più ampie. Ragion per cui non possiamo fare tutto in due, ma ci avvaliamo di figure professionali esterne, ognuno per il proprio settore e per le proprie competenze, quindi c'è effettivamente un incontro attorno a un tavolo che ci consente, confrontandoci e chiarendo ovviamente le idee e le posizioni, di raggiungere l'obiettivo comune senza, ribadisco, disperdere risorse e perdersi in chiacchierate molto spesso inutili. Quindi la filosofia della Tilt Change vuole essere proprio quella della costituzione delle società di tipo Tilt, quello di un confronto continuo allo scopo di poter raggiungere l'obiettivo nel migliore dei modi. Molto interessante, è proprio una struttura innovativa. Mi vieni a chiedervi subito una cosa, da dove è nata questa idea? Cioè questa idea innovativa è anche un po' complessa perché si sta uscendo un po' fuori dagli schemi. Com'è nata questa idea? Chi vuole? Bru, inizi tu. Inizio io perché io vengo da una struttura, da un'esperienza di un certo tipo aziendale e adesso mi sono posto il problema, dobbiamo fare innovazione. Bene, allora cosa vuol dire fare innovazione? Innovazione, tante volte l'ho detto anche in corsi che ho fatto in passato. Innovazione non vuol dire solamente usare una tecnologia e costringere la gente a usare quella tecnologia, se fai parte di un'azienda tu usi una piattaforma, devi costringere, tra virgolette dico costringere, tutti i dipendenti a usare quella piattaforma altrimenti non va bene. Nella realtà quando si fa innovazione, oltre a utilizzare una nuova tecnologia, bisogna anche cambiare il modo di lavorare, il modo di gestire quella che io chiamo la cultura che gestisce quel tipo di attrezzatura. Da questo punto di vista noi abbiamo cercato di applicare in maniera pragmatica ad un progetto in Sardegna che è quello di progettazione di impianti agrivoltaici questo tipo di approccio. Cosa voglio dire? I impianti agrivoltaici sono impianti fotovoltaici con tecnologie moderne, quindi usare la tecnologia, metterla nei terreni agricoli e poterli far operare per produrre energia elettrica. Ecco, questo tipo di cambiamento di tecnologia non vuol dire fare innovazione, vuol dire cambiare la tecnologia. Cosa vuol dire fare innovazione? Trasformare questo tipo di progetto, questo tipo di tecnologia in un sistema che serve per supportare i proprietari dei terreni, chi deve gestire l'attività agricola nel caso di terreni agricoli e quindi poterli dare il vantaggio di avere dell'energia che viene prodotta e quindi ottenere dei benefici anche economici, ma anche e soprattutto quello di poter fare un'attività agricola più forte, più importante e poter quindi usare per esempio la tecnologia dell'agricoltura di precisione che si sposa bene con i terreni agrivoltaici in maniera che possa produrre meglio di più prodotti organici nel proprio territorio. Quindi noi facciamo un cambio di tecnologia, ma anche un'innovazione culturale e un'innovazione sociale all'interno di un territorio agricolo che in Sardegna, ma se volete ne parliamo più nel dettaglio dopo, è estremamente importante. Ecco, e da dove, cioè come vi è venuta questa idea? Cioè l'idea di portare questa novità, questa innovazione? Casuale, una chiacchierata tra amici attorno a un tavolo, si parlava delle problematiche legate ai territori di nostra provenienza, io sono della provincia di Oristano, in particolare si sono della zona del Campidano e si ragionava sul fatto che effettivamente molte tipologie di agricoltura venissero abbandonate, parlo in particolare di alcune specie di vigneti che sono tipici della nostra zona, per non parlare poi delle produzioni storiche del Campidano come per esempio la barbabietola da zucchero che è venuta meno a seguito della chiusura dello zuccherificio, piuttosto che la produzione dei pomodori che era un altro know-how della nostra zona. Tutti questi terreni che all'epoca venivano utilizzati per colture delle specificità e quindi produzione di prodotti di un certo livello, anche di reddito per l'agricoltore, stavano venendo meno. Si parlava del piedemene e dell'impoverimento ovviamente della produzione agricola del territorio. A quel punto ci si poneva il problema di come supportare l'agricoltura in modo tale da poterla rilanciare e farla crescere nuovamente e far diventare ovviamente i territori il centro della produzione zonale. Ci è venuto in mente che con la produzione energetica associata all'agricoltura ci fosse la possibilità di dare un incentivo economico ai proprietari terrieri affinché potessero reinvestire questo incentivo sulla loro azienda e farne così uno sviluppo ulteriore, una crescita. Parlando quindi del più e del meno, ci è venuto in mente che l'agrivoltaico potesse essere una delle tante soluzioni, perché ci sono sicuramente tante opportunità, ma l'agrivoltaico in particolare, considerata la forte esigenza di produrre energie di tipo rinnovabili, poteva essere una soluzione al problema. Abbiamo approfondito il discorso, prima ovviamente ognuno per conto proprio in sedi separate e quando ci siamo rivisti per fare la chiusura del cerchio ci siamo resi conto che forse poteva essere una strada da percorrere. Per rilacciarmi a quello che diceva Bruno, non facendo esclusivamente produzione di energie elettriche in ambito agricolo, ma utilizzando gli incentivi che ne derivano, uniti a una tecnologia crescente che è quella ovviamente dell'agricoltura 4.0 per esempio, dare la possibilità quindi ai proprietari terrieri di fare un miglioramento della gestione e dell'agricoltura. Sono attività che già si fanno in altre zone d'Italia e nel resto del mondo. In Sardegna siamo arrivati forse un po' tardi, ci stiamo ragionando adesso, ma è quindi la possibilità di produrre un'agricoltura di qualità superiore con utilizzo di tecnologie un po' più d'avanguardia. Quindi si parla di agricoltura 4.0, di un telecontrollo della produzione agricola, piuttosto che un risparmio di risorse da parte dell'agricoltore in termini ovviamente di consumi acqua, piuttosto che sostanze fertilizzanti per il terreno e la possibilità di creare anche quelle biodiversità che fanno sempre comodo all'interno di un'azienda perché i nostri impianti hanno ovviamente delle zone specifiche che si possono utilizzare per produzioni specifiche. Ragion per cui tutto a vantaggio diciamo di una idea di innovazione agricola che poteva abbracciare un attimino quella che era la filosofia di cui si ragionava attorno a un tavolo. Così è nata la nostra... La Tilt Change è nata così. Attorno a un tavolo un gruppo di amici ha deciso di parlare di problematiche. C'era un po' di titubanza all'inizio o eravate motivati a palla? In realtà forti perplessità per quanto concerne il know-how in sé per sé non ne abbiamo mai avuto. Pensiamo che la soluzione possa essere attuata e possa effettivamente andare bene per quella che è l'idea di crescita del territorio. Assolutamente sì perché ripeto riuscire a migliorare per esempio affiancando gli agricoltori la produzione agricola creando biodiversità è anche ovviamente sinonimo della possibilità di impiegare forza lavoro di vario genere quelli che si occupano prettamente della produzione agricola piuttosto che quelli che possono affiancare produzioni di altra natura mi viene in mente l'apicoltura per esempio che con questi impianti si sposa meraviglia piuttosto che gli addetti alla parte prettamente tecnologica e parlo di manutenzione di impianti piuttosto che di costruzione di impianti piuttosto che di manutenzione ordinaria e straordinaria parlo delle parti elettriche e elettroniche piuttosto che la semplice pulizia ovviamente dei pannelli o della sottobosco pannello e quindi perplessità in seno alla possibilità di realizzare questo tipo di apporto all'agricoltura non ne abbiamo mai avuto. Le perplessità sono di altra natura ma sono subentrate in secondo. Certo certo. Bello vi capita mai cioè io mi immagino anche dei ragazzi che guardano la puntata e magari hanno un progetto in mente o magari stanno già portando avanti un progetto con magari un loro amico o uno o più amici amiche e vi capita mai di magari non trovarvi d'accordo in qualcosa e se sì immagino di sì chiaramente quando si portano avanti i progetti con qualcuno capitano magari uno lo vede bianco uno nello ecco come trovate voi? Allora il contrasto ne abbiamo brevemente parlato prima il contrasto non è una cosa negativa è una cosa assolutamente positiva viene vista in maniera negativa da chi come dicevo prima non ha l'abitudine ad ascoltare a capire quali sono le cose che porta avanti l'amico il collega quello che quello può essere un problema se invece si impara a lavorare insieme si impara anche a capire perché l'altra persona ti porta un'idea diversa ti porta qualcosa che non è d'accordo col tuo modo di pensare questo è una competenza che va assolutamente gestita può essere una competenza che nasce con una persona cioè uno ce l'ha nel sangue però molte volte uno la deve acquisire lavorando per cercare di portarla avanti però ripeto il contrasto è indispensabile per poter prendere le decisioni se uno si chiude in se stesso e fa quello che vuole lui allora può ovviamente ottenere dei risultati se è infortunato ma nella maggior parte dei casi fate gli errori se invece si lavora in due ma anche in più e ciascuno viene lasciato libero di dire il proprio parere viene ascoltato dagli altri e compreso oltre che ascoltato anche capito allora si ottengono i migliori risultati perché si minimizza si riduce il la capacità la possibilità di errore quindi è fondamentale una cosa del genere hai toccato proprio un'abilità o proprio un'attitudine che sta alla base della della comunicazione che è l'ascolto molto spesso ne stavamo parlando anche prima la comunicazione si pensa a volte solamente parlare quando in realtà una parte fondamentale del della comunicazione è proprio l'ascolto è proprio la comprensione ed è hai toccato una un'attitudine importante perché appunto in fase di per esempio quando si trova un argomento si sta parlando di un argomento e non si è d'accordo ma io poi immagino anche in qualsiasi contesto anche una per esempio una relazione di coppia quando non si è d'accordo bisogna ascoltare individuare il problema e poi parlarne per per risolverlo per trovare un punto di incontro ci sono due cose fondamentali ascoltare nella comunicazione ascoltare oltre che parlare quella è la cosa semplice perché se uno gli piace parlare parla macchinetta ascoltare ma la cosa più complicata è capire perché l'altra persona dice quella cosa che tu stai ascoltando scusate non voglio essere troppo troppo complicato però se per esempio un rapporto di coppia è tipico c'è la moglie che dice al marito certe cose che si lamenta per certe cose il marito oltre ad ascoltare i lamenti a dire uffa deve perché mia moglie mi sta dicendo questo me lo sta dicendo perché mi vuole mettere delle difficoltà o me lo sta dicendo perché magari è perché mi vuole bene che mi sta dicendo che sto sbagliando quindi ci sono due concetti capire perché uno dice le cose ma soprattutto avere fiducia nell'altro la cosa la fiducia in sardegna noi tendenzialmente nasciamo col dna di scarsa fiducia nei confronti degli altri però la fiducia nei confronti degli altri è una cosa fondamentale e la fiducia si acquista piano piano si impara si vede si capisce col tempo se non c'è fiducia non si può lavorare insieme ma la cosa fondamentale è la fiducia perché quello che uno dice lo dice perché vuole il bene nel nostro caso della società nel caso ovviamente del rapporto di coppia della famiglia dei figli e quant'altro ed è questo una cosa che purtroppo nella nostra realtà di oggi sta avendo qualche problema perché col fatto che la gente coi social si un pochino si attacca tecnologicamente agli altri e non personalmente crea qualche difficoltà in più che si può gestire quindi essere utilizzato magari più come uno strumento per poi incontrarsi è uno strumento per poi potersi incontrare di persona io faccio un esempio di lavoro poi andiamo avanti su altre cose io all'interno della società in cui lavoravo prima sono stato quello che ha portato la cosiddetta telepresence che era la prima versione delle videoconferenze però a livello molto più importante con dei monitor molto grandi e quant'altro è soltanto festeggiato perché si riusciva a fare le riunioni tra cagliari e milano in maniera molto efficace tutto quello che vuoi però non ha risolto il vero problema che quello della conoscenza fisica no c'era anche una canzone di un cantante si chiamava io technology non mi ricordo del cantante belga diceva sono stanco di usare la tecnologia in inglese ovviamente stanco di usare la tecnologia ti voglio vedere qui di fronte a me per parlarti di faccia ero rimasto molto colpito da questa canzone perché capivo che anche per i giovani anche per i ragazzi questo questo fatto di essere a distanza di parlarsi solo tramite tecnologia non era sufficiente in pandemia questo l'abbiamo compreso infatti dopo la pandemia ci sono state forti difficoltà poi non vedevamo l'ora di incontrarci di persone infatti adesso si sta migliorando tanto da questo punto di vista si ricerca il contatto fisico il contro il confronto di persona vi voglio chiedere una cosa sia una che all'altro che consiglio vi sentite di dare in base alla vostra esperienza alla alla generazione z ai ragazzi che ci guardano consiglio di vivere qualunque esperienza in maniera in maniera viva in maniera intensa interessata consiglio fondamentalmente di prendere delle decisioni che siano ponderate e fatte sulla base di quella che è la loro passione e la loro volontà di mandare avanti le cose molto spesso tendiamo non solo la generazione z ma anche noi ovviamente nel confronto a seguire diciamo delle correnti di pensiero piuttosto che un'ondata di indirizzo questo forse il periodo in cui più di altri c'è la possibilità di crescere e di toccare con mano tante 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 opportunità tante possibilità hanno tra le mani in particolare la generazione z che è di un altro livello rispetto alla nostra alla possibilità di avere degli strumenti che gli consente di vivere diciamo in maniera più snella e di conseguire in maniera più snella quelle che sono le passioni quelle che sono fondamentalmente le loro le loro i loro desideri e le voglie e la voglia di seguire ripeto un percorso ecco il peggior nemico è la perdita del di tempo o comunque quello di essere di farsi indirizzare dagli altri verso una direzione che magari non è quella che fa al caso proprio la cosa migliore secondo me è quello di scegliere in maniera ponderata senza dispendio particolare di risorse di energie questa forse è il consiglio che mi sento di dire ai ragazzi bello bellissimo consiglio anche percepito un'altra cosa un po anche uscire fuori dagli schemi rincorrere se stessi va bene ascoltare gli altri l'abbiamo detto prima ascoltare è fondamentale questo però poi il feedback interno è molto più importante di quello esterno cioè scegliere in base alle proprie alle proprie passioni alle proprie volontà e a volte anche uscire un po fuori dagli schemi bellissimo consiglio tu bruno ma io mi allineo completamente a quanto è stato detto da fabrizio seguire i propri sonni i propri desideri uscire dagli schemi quindi non farsi schematizzare in qualcosa di esistente il consiglio più grande che vorrei dare comunque è seguire i propri desideri le proprie passioni però in parallelo cercare di approfondire anche le cose che apparentemente possono essere poco interessanti perché non c'è nulla di poco interessante anche i lavori che sembrano noiosi all'inizio sono fonte di esperienza quindi attenzione non si può cominciare a lavorare quando si è finita la scuola con un lavoro bellissimo immediatamente bisogna cominciare magari dalle piccole cose però imparare e lavorare su questo e poi l'ultimo consiglio è quello di comunque ascoltare gli altri l'abbiamo detto più volte però avere qualcuno su cui si ha fiducia e farsi dare da questo qualcuno la mano per capire se si stanno facendo degli errori oppure no perché molte volte quello che ho notato sui ragazzi ma anche su di giovani persone che entrano a lavorare molte volte si capita ci si trova in solitudine ci si trova soli a decidere a fare tutto quello che vuoi e non sia qualcuno di cui si ha fiducia che ti aiuta a capire e a valutare le cose che stai facendo quello serve sempre soprattutto se una persona di maggiore esperienza lo dico perché io così faccio con mio figlio che ha 28 anni lui in maniera indiretta gli ho sempre dato questi tipi di suggerimenti basati sulla mia esperienza quarantennale lui ogni volta fa finta di non ascoltarmi ma poi mi segue però già ascolta però però poi senza dirmelo però mi ascolta come si chiama? Edoardo. Edoardo hai anche altri figli? No no uno solo. Tu Fabrizio? Ho una figlia si chiama Giulia 13 anni più giovane di Edoardo però insomma anche lei giustamente in fase adolescenziale quindi tende a prendere le sue le sue iniziative le sue prese di posizione che non manchino però con un continuo confronto con la famiglia. Salutiamo Edoardo e Giulia. Perfetto salutiamo Edoardo e Giulia. Io vi ringrazio davvero per essere stati qui con noi bellissima bellissima esperienza testimonianze io ci credo tanto nel vostro nel vostro progetto magari più sono sicuro che crescerà tantissimo io ci tengo a ringraziarvi e ringraziare la Mab&Call l'ufficio scolastico regionale e tutti voi ragazzi che ci seguite sempre vi ricordo di lasciare mi piace condividere la puntata con qualche vostro amico e noi ci vediamo venerdì prossimo grazie ancora ciao grazie a tutti ciao